In questo numero di AgriFood Magazine, cresce l'export nei primi sei mesi, sempre più giovani scelgono l'agricoltura, una cabina di regia per i controlli sull'import del grano duro, Lob Eat, una filiera sostenibile per orzo e luppolo. Export agroalimentare italiano in crescita nei primi sei mesi 2023, in particolare le esportazioni fanno segnare più 8,4% superando il valore record di 31 miliardi, mentre per le importazioni si registra un più 8,9% con un valore di circa 33 miliardi. È quanto emerge dal rapporto 2022 sul commercio estero dei prodotti agroalimentari, giunto alla sua 31esima edizione, realizzato dalla Crea Politiche e Bioeconomia. Agli aumenti in valore degli scambi in molti casi corrispondono incrementi più contenuti o contrazioni delle quantità scambiate, come ad esempio per le esportazioni di pasta o le importazioni di pesci lavorati. L'export in quantità di vini rossi DOP segna una contrazione del 10%, solo in parte compensata dall'aumento dei prezzi. Tuttavia, grazie alle maggiori esportazioni di altre tipologie di vini, come i bianchi IGP o i frizzanti DOP, nel primo semestre 2023 si registra una complessiva tenuta del comparto vino. Crescono le esportazioni di caffè torrefatto, confermando l'ottima performance del 2022. Per le importazioni di olio di girasole, dopo il netto aumento dello scorso anno, legato anche all'impennata dei prezzi, si è avuta una forte contrazione del valore degli acquisti, accompagnata da un calo molto più contenuto delle quantità. Cresce il numero dei giovani agricoltori under 30. Secondo un'analisi di infocamere e union camere relativi al periodo 2014-2023, negli ultimi dieci anni i giovani in agricoltura in Italia sono aumentati del 12,8%. In questo arco di tempo, a fronte della presenza in Italia di 110.000 imprese condotte da giovani in meno, nel settore agricolo si è registrato un aumento di oltre 4.000 imprese under 30, a conferma dell'attrattività nei confronti delle nuove generazioni. Le imprese giovani hanno di fatto rivoluzionato il mestiere dell'agricoltore impegnandosi soprattutto in attività multifunzionali che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, precisa la Coldiretti, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardine, strade, l'agri benessere e la cultura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili. A partire da metà novembre, con la sua nuova cabina di regia, prenderà il via un piano straordinario di controlli sull'import di grano duro, finalizzato a garantire la qualità e la trasparenza dell'origine di questo fondamentale ingrediente nella produzione alimentare. Ad annunciarlo il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato l'importanza di questa misura per tutelare il prestigio del Made in Italy come sinonimo di eccellenza alimentare. Fanno parte della cabina di regia i comandi dei carabinieri per la tutela agroalimentare e per la tutela forestale e parchi, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, AGEA, Agenzia delle Entrate e l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Masaf, a cui è affidato il ruolo di coordinamento operativo. Per Lollobrigida, questi controlli non devono essere un aggravio per le imprese, ma un ulteriore strumento di garanzia dell'utilizzo di grano italiano, a vantaggio delle persone che acquistano e degli stessi produttori, che vedono così garantito il valore della loro fatica e del loro valore nell'utilizzare una materia prima di origine nazionale. Lupolo e Orzo da una filiera sostenibile per una birra aromatica poco alcolica e completamente italiana. Sono gli obiettivi principali del progetto Lob Eat, Lupolo, Orzo, Birra, Biodiversità Italiana da Valorizzare, coordinato dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria e finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il progetto prevede una serie di azioni tecnologiche per la valorizzazione in chiave sostenibile della filiera, che si concentreranno sullo studio di ecotipi locali di Lupolo e di incroci legati al territorio, che necessitino di minori input per la crescita, con una migliore sostenibilità ambientale ed economica e sulla riduzione dell'incidenza delle malattie virali in Lupolo tramite l'utilizzo di germoplasma controllato ottenibile da risanamento e da selezione sanitaria. Nei tre anni di ricerca si lavorerà per aumentare la disponibilità di varietà italiane di orzo distico, l'orzo da birra per eccellenza, di alta qualità e produttività per lo sviluppo di micro filiere tra agricoltori, micro maltatori e micro birrifici e per selezionare le varietà di questo cereale più adatte per ogni areale.